partecipando a scegli con noi potrete incontrare rappresentanti degli studenti e tutor come la sottoscritta all'interno degli info point e questo vi permetterà di poter interagire con noi farci domande sul com'è veramente studiare in questo dipartimento cosa comportano le varie lezioni qual è il carico didattico che viene richiesto e quindi farvi un'idea più chiara di cosa vuol dire studiare geoscienze a padova vi aspettiamo è un corso molto ricco di attività pratiche che permettono di studiare in maniera approfondita le materie che vengono affrontate durante i corsi dal livello macroscopico a livello microscopico buongiorno io sono marco sono uno studente di scienze geologiche della mia esperienza universitaria particolarmente apprezzato l'opportunità di poter svolgere molte molte esperienze anche al di fuori del contesto prettamente scolastico molte attività pratiche come escursioni e laboratori c'è un ottimo rapporto fra studenti e professori e oltretutto padova riesce a fornire al nostro dipartimento anche un'ottima struttura molto moderna e all'avanguardia durante la laurea triennale abbiamo modo non solo di seguire le lezioni frontali ma abbiamo anche un grande numero di escursioni sul campo che possono essere giornaliere o anche di più giorni come rilevamento di campo 1 o di campo 2 solitamente nella zona degli appennini e delle dolomiti e solitamente campo 2 verte più su magari isola d'elba e croazia questo ci dà modo oltre a studiare la teoria degli argomenti anche poi poterla portare sul terreno e toccare con mano e vedere con i nostri occhi effettivamente non solo le immagini sul libro ma anche cosa comporta ciò che abbiamo studiato una volta terminato il percorso di studi con una laurea triennale o con una magistrale le strade che si possono intraprendere sono davvero tante si può andare a lavorare in azienda grandi o piccole oppure anche intraprendere la carriera accademica come ad esempio fatto io che ho appunto continuato il mio percorso di studi con il dottorato di ricerca sempre qui in dipartimento oppure insomma si possono scegliere anche sedi diverse magari all'interno dello spettro internazionale già durante la triennale abbiamo modo comunque di toccare molti argomenti e già questo ci dà una buona base per il modo del lavoro anche se effettivamente continuando abbiamo diciamo tre magistrali che vertono sia sulla geologia tecnica con geodifesa oppure un curriculum in inglese con air dynamics e un ulteriore curriculum in inglese geofisica noi geologi o comunque diciamo futuri geologi siamo molto ricercati nelle grandi aziende sia sul territorio nazionale che internazionale in quanto stanno comunque iniziando una progressiva un progressivo spostamento sulla transizione green quindi alla ricerca di nuove risorse energetiche rinnovabili come l'eolico l'idrico il geotermico e appunto questa comunque nostre magistrali ma anche la triennale ci dà delle buone basi e delle capacità e delle nozioni che possono essere molto utili ad aiutare questa transizione green che al giorno d'oggi è così molto importante